Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, iscritti e iscritti, bentornati su Giovi HD Spò questo è il Robin Road to Glory nelle prossime partite inserirò cross che ho già per i pacchetti che hanno dato a me, tutte quelle cose lì allora, vi lascio un link di un canale YouTube in descrizione, si chiama Armozzo HD fa canali, fa video di foot come me e quindi vi lascio un link in descrizione se volete andateci a dare un'occhiata, iscrivetevi al suo canale e spero che vi piacciono questi video e i suoi video la prima partita si conclude con un netto 0-0 occasione da entrambe le parti ma nessuno è riuscito a sfruttare le occasioni seconda partita abbiamo un attacco pagato con il ToStorage ma si mette male perché comunque i ToStorage sono due veloci però il primo gol arriva con questo tiro siluroso, siluroso di Aubameyang al tredicesimo minuto poi arriva il raddoppio sempre con Aubameyang all'ottantatreesimo, un altro tiro fortissimo Ad, diciamo, in questo momento si è apparato veramente di tutto ha avuto 9,2 miglior portiere e miglior giocatore in campo con un casino di parate altri tre punti molto bene questa è la terza partita questo è tutto francese di che primo gol arriva con questa respinta sulla traversa di testa di Robben molto molto bene poi arriva anche il gol del mio avversario e mi zittisce perché l'avevo zittito anche io poi arriva questo bel gol di Griezmann nel centro del mio avversario e lui mi zittisce perché mi stavo rompendo i coglioni a fare tutte quelle cazzo di giocato allora io l'ho zittito lui mi ha zittito io l'ho zittito lui mi ha zittito di nuovo e alla fine l'ho zittito io e finisce così 2-2 ci siamo zittiti a vicenda i... diciamo meritava forse lui di vincere ma... ma questo è FIFA è FUT cioè non si può fare niente terza partita questa squadra è tutta inglese mi annuncio che l'attaccante si chiama Lambert Lambert si ehm... è stata una vera spina nel fiammo infatti il primo gol arriva con questa respinta malandosa di ehm... Adler al 25esimo con un bel gol dai rovesciati di Lambert qua Robben tutto da solo tutti tutti se li fa tutti e infine con il suo mancino la infila al 32esimo qua arriva anche il gol di Oxlames Chamberlain sulla respinta del difensore qua arriva però anche il secondo gol di Robben dopo questa distrazione difensiva che è la infila gli spill alle spalle di Arthur al 57esimo venuto arriva anche questo colpo di testa di Lambert che anticipa un verso il 59esimo però poi arriva sempre il pareggio con 3 a 3 con Thomas Müller potentissimo il suo tiro arriva anche il 4 a 3 con Tony Cruz davvero pensavo di doverlo togli da loro se invece mi ha ottenuto perché mi ha fatto il god che non è da buttare naturalmente finisce 4 a 3 per noi altri 3 punti che ci permettono di sperare per la promozione forse anche per il titolo non abbiamo ottenuto la salvezza e quindi a breve inizieranno i pink slips non so di preciso verso il lunedì prossimo lunedì che verrà metterò un post sulla pagina facebook con con tutte le regole dei pink slips e chi può e chi non può eccetera eccetera c'è tutto lì 2 a 0 al 52esimo gol di Robben e di Müller qua intanto Lam la passa a Boateng Boateng per Lam Lam per Robben si smarca difensore poi da lontanissimo mamma mia che gol mamma mia che gol Arshen Robben davvero tiri a giro bacatissimi anche dalla distanza rivediamo sto cazzo di riprendere mamma mia bellissimo palo gol check non può farci nulla finisce così 3 a 0 migliori in campo UB si è giocato davvero bene in questa partita altri 3 punti e quindi promozione ottenuta con 2 partite di anticipo ora si punta per il titolo ebbene ragazzi se questo video vi piaciuto lasciate un bel pollicione in su viiii vi ricordo di passare dal canale di Armozzo HDDrop il link qui sotto in descrizione iscrivetevi al canale se non siete già iscritti qui è Giovispo vi saluto vi ringrazia e ci vediamo domani con un nuovo video ciao bello a tutti e vi raccomando guadagliate con i Tozz ciao 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 ciao